Per battere i francesi serve un miracolo, lo dice la storia della pallovale. Loro sono più forti, ma noi abbiamo tanta voglia di rivalza. Italia-Francia non è mai una partita banale, figuriamoci se poi si tratta dell'esordio mondiale. Brunel ha scelto i suoi 15 guerrieri, tra cui c'è il Sanita Furno, che scenderà in campo con la maglia numero 5. Panchina per Carlo Canna con la numero 22, ma per lui potrebbe esserci spazio a partita in corso. Cresce l'attesa del popolo della pallovale, che non vede l'ora di tuffarsi in questo mondiale. Tra qualche minuto a Twickenham, Inghilterra e Fici daranno il via alla competizione. Domani, alle 21, sullo stesso Manto Elboso, toccherà gli azzurri. Intanto è vigilia mondiale anche per la comunità ceppallonese che nel corso della mattinata ha visto comparire sulle bacheche comunali e nelle attività commerciali delle varie frazioni dei manifesti dedicati a Joshua Furno e all'Ital Rugby. Si tratta di una bella iniziativa, di cui ci parla il primo cittadino, Claudio Cataudo. Sì, in effetti è un motivo di orgoglio per la nostra comunità. Mi ritengo non solo per la comunità di Cippallon, per l'intera provincia di Benevento e per l'intero Sagno, avere un nostro concittadino ai mondiali di rugby. Quindi noi abbiamo ritenuto opportuno informare la nostra cittadinanza di questo evento, che io ritengo sia un evento importante per tutti quanti noi, un momento di ribalta, voglio dire, extranazionale. Io mi auguro per lui una lunghissima vita di esperienza dal punto di vista, voglio dire, sportivo, ovviamente sapendo sempre che un motivo di orgoglio per tutti quanti noi, per la nostra comunità e che lo aspettiamo presto qui a Cippalloni anche per festeggiare insieme le sue imprese nel campo sportivo, voglio dire, quindi a questi mondiali. domani sera c'è la partita Italia-Francia e quindi un invito a tutti quanti noi, a tutti i cittadini, a tutti i sanniti a seguire questo nuovo e nostro fenomeno di Joshua, un altro fenomeno sannita, così come lui ce ne sono stati altri nel campo del calcio, il ricordo va a Carmelo Imbriani, in altri settori, da quelli professionali, da quelli medici, da quelli polici e quindi ancora una volta la nostra comunità si conferma come punto di partenza di grandi menti, di grandi professionalità nel campo sportivo, grandi menti e grandi capacità che emigrano, ma noi ci auguriamo che quanto prima possano ritornare nella nostra comunità e continuare a dare il lusso che finora ci hanno dato con nostro grande piacere ed orgoglio.